L'ondata di contagio ormai galoppa. Sono sempre di più i positivi al coronavirus in regione, tanto che solo nella giornata di oggi se ne contano 321. Un boom di casi in continuo rialzo che comporta un aumento di pressione sui servizi sanitari e che con l'avvicinarsi dell'inverno preoccupa Filippo Saltamartini, assessore regionale alla sanità, che dichiara siamo in guerra contro un nemico terribile. Mentre in guerra ci si poteva fidare dei propri compagni, il coronavirus tende ad insinuarsi anche tra i rapporti più stretti, portandoci a dover stare attenti anche a parenti, amici e talvolta anche genitori. La maggior parte dei contagi infatti risalgono, secondo i tracciamenti, all'ambito domestico. Non si parla però solo di familiari, ma anche di amici, fidanzati e conoscenti. Questa mattina abbiamo chiesto il parere dei fanesi a riguardo. Io ho una nipote, se lei mi va a dormire da un'amica o mi esce il sabato con gli amici, poi torna a casa, io non lo so se lei ha contratto il virus, però me lo può attaccare a me. E quindi gli spostamenti. Io personalmente non ho dei contatti, molti contatti, capito? Quindi le persone che conosco comunque sono persone che fanno attenzione. A lei in famiglia sta adottando qualche restrizione in più? No, diciamo no, in famiglia no. Fuori sì, cioè cercano di non andare dove c'è l'assembramento di persone. Penso che magari i ragazzi non stanno molto attenti, cioè certe cose si potrebbero evitare. Ritengo che i contagi avvengano con i giovani che li vedo ammassati senza mascherine in ogni luogo. Quindi poi portano a casa il virus e da lì si distribuisce, secondo me. Con le persone più anziane abbiamo deciso di farle stare a casa, aiutiamo noi a fare tutto quello ai nostri genitori che sono più anziani, di aiutarli noi e quello che possiamo fare è mascherine, disinfettazione e il resto. Farli uscire il meno possibile. Siccome vivo da solo quindi diciamo che non ho questo problema, però è nei nuclei familiari che bisognerebbe insistere e tra i ragazzi. Ridurre le uscite con gli amici, rinunciare ad aperitivi e cene, ma anche evitare di incontrarsi con nipoti e parenti. Il coronavirus, come un muro, separa ognuno dai propri affetti con un metro di distanza. Non ci baciamo più, non ci abbracciamo più, specialmente con la nipote che è la più giovane, quella che esce di più. Abbiamo ridotto anche gli incontri del sabato, quando uscivamo tra amici, andavamo a cena. La domenica andavamo a pranzo fuori. Cerchiamo di ridurre tutto questo affinché la situazione non migliora, affinché non c'è il vaccino, specialmente i vecchi come me. Possono essere ridotte anche le uscite, magari invece sabato sera di stare in giro, possono stare dentro casa, comunque fare altre cose. Quando magari andiamo a trovare i nonni mettiamo la mascherina, c'è il distanziamento. Cerchiamo di evitare che vengano i figli a casa, perché i figli vanno a scuola, vanno con i mezzi pubblici. Io esempio con gli amici, teniamo le distanze, teniamo la mascherina, facciamo il caffè, facciamo l'aperitivo. E onestamente io ho fatto tre tamponi nel giro di un mese, ma io sono negativa, come tutte le mie amiche, insomma.